Il caso del sottosegretario all'economia Durigon è interessante e molto rivelatore di qualcosa che attraversa regolarmente la politica italiana e cioè le azioni dirette quasi esclusivamente a dare qualche piccolo vantaggio elettorale. Il problema con Durigon però è molto più complesso di questo e sarebbe errato pensare che si tratti di qualcosa come una voce dal sen fuggita. No, Durigon sta perseguendo una strategia. Lui, come raccontano i giornali, è l'uomo forte della Lega nel Lazio, quello che sembra responsabile positivamente di avere fatto crescere i consensi del partito di Salvini e cerca di andare oltre. In questo caso la sua indicazione, la sua propensione a cambiare il nome del parco attualmente dedicato a Falcone e a Borsellino e ridedicarlo a Arnaldo Mussolini non è qualcosa di estemporaneo. Durigon di aver pensato che questo è uno dei modi per riuscire a impedire che il partito di Giorgia Meloni, legittimo erede dei Mussolini, non tragga vantaggio da questa sua scelta. E lui invece, quello che ha proposto di rimettere le parole a Arnaldo Mussolini su quel parco, sta cercando di bloccare l'ascesa e forse anche di erodere il consenso di Giorgia Meloni. Per questo la sua decisione mi appare particolarmente sgradevole, ma per questo credo anche che sia giusto che debba lasciare il suo incarico. Non è così che deve agire un sette segretario, non è così che devono comportarsi coloro che fanno parte del governo dei migliori. Se vuole essere un migliore deve migliorare le sue modalità di fare politica. Intendiamoci però, Durigon è il caso attuale, ma questo deve servire come insegnamento anche per tutti i casi futuri. Vale dire che non solo i ministri, ma anche i sottosegretari devono fare molta attenzione, non solo a quello che fanno, ma anche a quello che dicono. Se vogliamo cambiare la politica di questo Paese, dobbiamo tutti insieme criticare coloro che sbagliano, a prescindere dalle loro appartenenze politiche. Mi aspetterei però che in questo caso l'iniziativa venisse da Salvini stesso, che darebbe così un colpo d'ala al suo tentativo di bloccare l'erosione della Lega e al tempo stesso di impedire a Fratelli d'Italia di crescere ulteriormente. Dunque, via Durigon il prima possibile, senza aspettare che ci sia una mozione di sfiducia, senza andare al voto, senza impegnare il Parlamento in qualche cosa che francamente non mi pare una popolazione particolarmente brillante. Fuori Durigon e dentro un altro, qualcuno che crede nel suo lavoro, nella comunicazione, nell'Italia come un Paese nel quale il fascismo non ha più diritto di cittadinanza. Grazie. Grazie.